Buonasera, ci troviamo a Villafondi nel meravigliosa terrazza, stasera una serata di grande musica napoletana con un chitarrista e un mandolinista, Nicola e Luigi. Nicola, parlaci un poco della serata. Sarà una serata, innanzitutto sarà bellissima per la location, ci troviamo qui a Villafondi, una terrazza bellissima sul golfo di Sorretto, come cantava il grande Dushu Dalla e facciamo un duo chitarra e mandolino, interpretiamo le canzoni classiche napoletane, tra le più famose, cercheremo di interagire con il pubblico, far cantare il pubblico, quindi il concerto non lo faremo noi, ma lo farà la gente, un simile lui. Da dove provenite? Io sono di Scafati. Scafate lui? E di qualcosa? Vieni da? Sorretto. Guarda hai fatto spegnere la luce, aspetta, appena accendo la mia luce, talmente che sei importante che hai fatto spegnere la luce, tu vieni da Scafati, io la sorretto. E il primo concerto che fate a piano? Sì, sulla terrazza, però noi siamo amici innanzitutto, poi colleghi da tanti anni, abbiamo suonato anni all'estero insieme, siamo stati in Germania, in Lettonia, insomma ci divertiamo, amiamo suonare e niente, buonasera. Buonasera.